Berlusconi è andato lì, ha parlato di riforme e ha parlato della sua situazione processuale. Non della sua situazione, di quello che comunque il partito si troverà anche correlata alla sua situazione. Non cerchi di cambiare le tavole, ma ha detto la verità. Il 10 aprile lui ha un problema personale, è andato al contrario di altri cittadini che sono in attesa di una sentenza, di un procedimento, a parlarne direttamente con il Presidente della Repubblica. Non avrà posto un ricatto, ma il discorso che ha fatto mi ricorda molto, perché lo fa anche lei, quello di un boss mafioso, e non voglio paragonare Berlusconi a un boss mafioso, che entra in un negozio e dice, bello questo negozio, bella queste tappezzerie, belle queste tende, è certo che è tutto infiammabile. Questo è il messaggio che ci ha togato ieri. Ma non mi pare. Il video è che ci giriamo intorno. A me non pare, poi i messaggi possono essere sempre letti in diversi modi. Va bene. A me non pare. Se le sue... Non usi... Facciamo attenzione a usare metafore forti. E anche Berti. No, 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 io la metafora la faccio, perché vi ricordo che quel Cosentino che oggi è finito in carcere, al di là che sia colpevole innocente, è stato candidato in un partito, nonostante che avesse tre fratelli sposati con parenti diretti di boss mafiosi dei tutti venuti al 41 bis. Grazie a tutti.